Il podcast è il nostro laboratorio didattico formativo per quanto riguarda la web tv, il podcast, la web radio e tutto il mondo streaming. Qua davanti a voi potete vedere la nostra sala regia, uno degli ambienti più importanti del nostro progetto e tutto ciò che vedete è ciò che noi stiamo includendo nel nostro pacchetto per portare ragazzi a avvicinarsi il più possibile a quello che è il mondo dell'intrattenimento, della tv e della radio, dello spettacolo di conseguenza, in modo diciamo semiprofessionale. Dall'altra parte, quindi davanti a quella che è la regia, abbiamo tutto lo studio, quindi la parte in cui avviene, chiamiamolo, lo show, l'intervista.